Buongiorno, buongiorno, buongiorno la savana, buongiorno il leone, buongiorno il maschetto che si è addormentato, di solito di Scavary Kenya, solo di Scavary Kenya che puoi sacrificare per andare dappertutto eh, per vedere tutto quello che c'è, tutto quello che capita. Stiamo andando dal Pozzola però non andiamo più, abbiamo trovato quello che cerchiamo, di Scavary Kenya, sono due maschi eh, il secondo sono quello là, il primo è questo qua, ragazzi siamo entrati verso le nove mesi, adesso siamo alle undici, alle undici, alle undici mesi? Sono già a mezzogiorno? Con due ore cosa abbiamo visto? Eccolo, 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 Iscavary Kenya vi presenta tutto questo, eh? Iscavary Kenya, vive il Kenya con fragola.